Eccoci qua, ci sei? Stai video riprendendo? Allora, stiamo per eseguire di nuovo 120 kg per 5 ripetizioni in parallelo con questa hopper, e non più accusciato da un parallelo. Vai sotto con i piedi, sistemati per bene, minacciate sui processi sul principio scapolare, le mani in fuggiatura più stretta ma più comoda possibile, i comiti in avanti, perpendicolare, ci sono percorsi, vai plank, plank attivo, via, stacca, posizionati nel centro della gabbia, sistema bene i talloni, plank massima potenza, 1, bravo, video riprendendo da dietro, 2, bravissimo, cerchiamo di andare in parallelo, adesso vai lateralmente, 3, bravissimo, vai, vai in parallelo Giuseppe, mentre scendi spingi le ginocchia verso l'esterno, scendi, porta il bacino indietro, siediti e fai un completo pieno parallelo, ok? Benissimo, chiusi.